se siete qui è perché siete stati individuati dall'agenzia perché non vi piacciono le ingiustizie per ogni guerra per ogni attentato per ogni carestia c'è un sistema che l'ha voluto noi siamo nati per opporci a tutto questo che devo fare usatemi come? ti farai assumere da loro diventerai uno di loro ma resterei una di voi ci sei noi siamo citadel cosa è in your head? ci sei capitale ci sei capitale mi va essere fati non so no so no so